Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Nell'ultimo video avevamo creato la famiglia con il cane, ma l'avevamo fatti andare in vacanza, sono frianzati, convivevano, però c'è stato un problema. Ho perso il salvataggio, quindi tutto il salvataggio ho perso, quindi mi tocca rifare tutto, ma questa volta facciamo che siamo partita all'ultimo senza il canino, facciamo tranquillamente che mi stanno ancora insieme, però comunque si devono fianzare, però convivono insieme, facciamo così. Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh Grazie a tutti 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 qui Grazie a tutti 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 Ci vediamo Ci vediamo un prossimo video Goodbye Grazie a tutti Grazie a tutti